Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP Termometro Politico del 2 di aprile 2023, domenica. La domanda posta agli intervistati è a fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La maggioranza assoluta, no per nulla, risponde il 40,1%. Poi si molta 25,3%, si abbastanza 19,2%, no poca 14,8%, non so 0,6%. La somma di chi non ha fiducia, no poca e no per nulla, arriva quasi al 55%, al 54,9%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.